Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coi attratti tra Calenzano e Pio 1 Variante in direzione nord. Regolarizzato al momento il traffico in A11 in Fipili per Mangono, coi attratti tra Ginestra e Firenze Scandici in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione tra le stazioni di Firenze Campo Marte e Figline Valdarno. I treni in linea potrebbero subire ritardi o variazione. Al momento sono interessati tre treni regionali con ritardi compresi tra i 17 e i 30 minuti. Prima di salutarci per il traffico navale, per maltempo è cancellato il traghetto Piombino-Cavo-Portoferraio del 12 e 20. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città aeroportana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!